Noi vogliamo? vai aspetta che incodro bene vai vatti sopra vado a vedere che sta tutto tutto godito bene ottimo ma è profundo aspetta un attimo aspetta che spado bene vai e un altro vai 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 pure vieni vieni Gampo Vici Sì Vai prendilo, aspetta 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 per vedere com'è ... Vai prendi sotto, aspetta aspetta, non rompe il campo pulisci qua molto bene molto bene grazie